Non è l'età che può maturare una persona, ma l'esperienza che ha vissuto. Un uomo vale quanto la sua parola, perché nella sua parola risiedono i suoi valori, e se alla parola non seguono i fatti, uomo non è. Siete segni che la tua vita sta andando bene, hai un tetto sopra la testa, oggi hai mangiato, hai un bagno pulito, hai un cuore buono, auguri il bene agli altri, qualcuno si preoccupa per te, e stai respirando. Ho chiun sopporte che non aprirò più, non per cattiveria, orgoglio o vendetta, ma per rispetto alla mia persona. Posso dirti una cosa? Abbi cura di te, esci a fare una passeggiata, mangia il cibo che ami, concediti un bel taglio di capelli, piangi se ne hai bisogno, prenditi il tempo per leggere un libro, parti per una vacanza, brinda i tuoi obiettivi, fai ciò di cui hai bisogno, prenditi cura di te, perché alla fine di ogni giornata, tu è tutto ciò che ti rimane. Se ti piace Just Funimal, mettici un like e iscriviti al canale, grazie. Sono tante le cose inspiegabili della vita, una di queste è, che piove sempre sulle persone, che meritano di più il sole. Sai, non è vero, che quando si chiude una porta si apre un portone, a volte si apre il voto, e bisogna essere pronti ad affrontarlo. Il peccato più grande è, fare del male a chi ti vuole bene. Sarà un mondo migliore, quando si insegnerà le persone a essere corrette, non furbe. Sai, in fondo, per essere felici basta poco, è sufficiente la compagnia delle persone giuste, quelle capaci di condividere, con te tutti i colori della vita. Se mangi oltre la fame, non senti più i sapori, se conti i soldi a fiume, non hai più desideri, se hai troppi vestiti, poi non li metti mai, se fai viaggi infiniti, non sai più dove stai. Fra il poco che ne manca, e il troppo che ne avanza, c'è anche una via di messo, che si chiama abbastanza. Purtroppo la vita è così. Se ti piace Just One One, mettici un like, iscriviti al canale, grazie. Sai una cosa? Le persone più forti, trovano sempre il tempo per aiutare gli altri, anche se stanno lottando, con i propri problemi. e vorrei diventare una di quelle persone che quando ha fame si mangia un frutto. Sai, dovremmo tutti iniziare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, e lo sono anche i rimpianti. Non l'ha eterno. Il caffè si raffredda, la sigaretta si spiene, il tempo passa, le persone cambiano. Il peccato più grande è fare del male a chi ti vuole bene. C'è sempre un momento per poter cambiare la nostra vita. Si chiama consapevolezza di meritare di più. Sai, quando qualcuno mi sorride, così senza motivo, torno a sperare. Certe donne non sono fatte per essere domate. Forse hanno bisogno di restare libere. Finché non trovano qualcuno, altrettanto, selvaggio con cui correre. Diventi bellissima quando non hai bisogno di piacere a nessuno. non giudicare una persona per come ha gestito un dolore che non hai provato. non ti uccidere del lavoro per dare il meglio ai tuoi figli. Quando cresceranno non ricorderanno i giocattoli costosi, ma i momenti felici passati con te. la vera miseria non è quando mancano i soldi, ma quando manca l'amore. se ti piace just funny one mettici un like e iscriviti al canale. Grazie. Sai una cosa? Non serve sforzarsi per conoscere una persona. Te la spiega nel tempo. Ricordatevi di chi resta non di chi torna perché spesso chi torna lo fa solo perché non sa dove altro andare. non fate caso a me. Io sono di un'altra epoca. Altri valori, altra testa, altro cuore. Ho visione di alleggerermi le spalle perché da troppo tempo che sono cariche di pesi che io non ho voluto e non ho chiesto e poi sotto ci sono le mie ali ci sono io che ho bisogno di volare. Sai? Un sacerdista le persone più importanti non sono quelle che hanno la testa piena di conoscenza sono quelle che hanno il cuore pieno d'amore le orecchie pronte ad ascoltare le mani pronte ad aiutare. Non è vero che chi ha un carattere forte soffre meno degli altri è solo più bravo a nasconderlo. chi è male fa male aspetti le cattiverie tornano sempre al mettente io mi siedo e aspetto mica ho fretta sai qual è il segreto per vivere meglio in ora sorridi e vai avanti finalmente ho capito una cosa non si dimentica una persona si accetta la sua assenza io sono responsabile di quello che dico ma non di ciò che tu capisci non è vero che le cose passano non passano mai sei tu che ad un certo punto le passi davanti sorridendo se non potranno manipolarvi diranno che siete pazzi se perdoni troppe volte la gente poi si abitua a farti sempre del male ricordati questa frase mio nonno diceva sempre non ti fidare di chi un giorno ti è vicino e l'altro ti è distante hai il cuore ballerino e la bocca da mercante se ti piace just funny one mettici un like iscriviti al canale ci gridiamo alla prossima con un nuovo video grazie grazie mille per restare con just funny one ci vediamo alla prossima con un nuovo video grazie vi state bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti